Ha abbandonato rifiuti accanto ai cassonetti per giorni, è stato scoperto e multato, ma poi ha ripreso a lasciare cumuli di immondizia per la strada, come se niente fosse. Un vero e proprio incivile seriale, quello scoperto e multato dalla polizia locale di Voghera in via Piacenza. È qui che da alcuni giorni i residenti segnalavano una situazione indecorosa, come si può vedere da queste immagini. Dopo le indagini, gli agenti sono riusciti a risalire presto alla responsabile e gli hanno fatto un verbale da 80 euro per l'abbandono dei rifiuti. Finita qui, ma che dopo alcuni giorni, l'uomo, residente in città, è tornato alla carica, inondando di nuovo la piazzola di immondizia. La polizia locale lo ha quindi colto di nuovo con le mani nel sacco, staccando un'altra contravvenzione. L'uomo si è scusato, spiegando che si comportava così per rimediare le mancanze di una ditta di pulizie, che aveva incaricato di smaltire i rifiuti, ma che non lo aveva fatto. Non si sa se questa versione dei fatti fosse quella vera. Fatto sta che, oltre alle due multe, ora gli verrà debitato anche il costo per la rimozione dei rifiuti. Il problema dell'abbandono di materiali e immondizie è molto sentito a Voghera, tanto che in un recente incontro fra la polizia locale e SM è emersa l'esigenza di assumere ispettori ambientali per contrastare questo fenomeno.